Episodio 42 del corso di Shopify, oggi vediamo come possiamo modificare le pagine, poi nel prossimo video come creare un nuovo modello di pagina. Fortunatamente, intanto facciamo personalizza qua sul nostro tema, fortunatamente abbiamo già fatto tutta la visione dell'editor del tema durante il video appunto su cosa sono i temi, come funzionano. Quindi per chi se lo fosse perso vi rimando a quella parte, abbiamo visto cosa sono questi bottoni, questi bottoni qua in alto, come si divide una pagina, cosa sono questi tre bottoni eccetera. Quindi vi rimando a quello perché ci ho perso dieci minuti l'altra volta, vorrei non rifarlo. Quello che vediamo oggi è una modifica pratica, voglio far vedere come modificare le pagine in modo pratico, anche se poi nei miei corsi da una a due ore per creare siti da zero lo farò io e se avete bisogno di quella cosa in particolare mi potete seguire. Quello che mi interessa oggi è mostrarvi come si fa in modo che cominciate almeno con me a vedere e acquisirne familiarità. Allora, abbiamo qua la nostra home page, ma la stessa cosa può valere per tutte le pagine, ok? Abbiamo la nostra home page e come potete vedere abbiamo accesso a tutte le piccole sezioni, tutti i blocchi. Scusatemi, queste sono sezioni e poi dentro abbiamo i singoli blocchi, quindi vedete questa è una sezione che presenta poi diversi blocchi. Vedete, la presentazione è tutta questa, ma poi abbiamo dentro questa parte qua che è un blocco, ok? Quello che voglio fare è semplicemente farvi vedere come possiamo modificare determinate cose. Allora, cominciamo con la nostra presentazione e se premo vedete che possiamo modificare la larghezza del layout. Possiamo modificare l'altezza della slide, vedete se la vogliamo più piccola, media, se la vogliamo grande, adatta alla prima immagine. Ne facciamo piccola perché vorrei entrare e vedere già sotto che c'è altro. A me onestamente i siti che occupano tutta la prima pagina non piacciono più, mi piacevano nei primi anni dieci, ormai non mi piacciono più. Stile impaginazione, vedete che possiamo provare a modificare e capire se cambia qualcosa. Non sempre cambia qualcosa perché magari il layout è impostato in un certo modo che non sempre tutte le piccole modifiche possono avere effetto. Io vi incoraggio a provare e divertirvi con tutti i singoli elementi per capire cosa fanno perché non li vedremo mai tutti per ogni singola casistica che vi può interessare. Quello che voglio farvi vedere ad esempio di questo slider o presentazione è che possiamo dire che deve ruotare automaticamente. Quindi quando poi saremo in produzione, non so se lo farà anche adesso, ma è rilevante, comincerà a ruotare automaticamente. Quindi se abbiamo più slide, in questo caso non ce l'abbiamo, andrà avanti una, due, tre e quant'altro. Quindi slide, possiamo cambiare slide ogni cinque secondi, vedete? E poi qua sotto abbiamo le impostazioni del tema eventualmente per le presentazioni, in questo caso lasciamo così. CSS personalizzato, se conoscete CSS potete assolutamente andare a modificarlo e questa è la presentazione in generale. Ma la presentazione è formata da slide, giusto? Quindi io premo la prima slide e abbiamo la nostra immagine. Qua dentro vedete che abbiamo il titolo, quindi quella che vedete è la prima slide, la presentazione è l'insieme di slide. Adesso lo capirete meglio, io la chiamo prima slide, vedete? Sto modificando, poi ho il mio bottone, ad esempio, solo che se premete andate effettivamente qua, dovete trovare il vostro bottone, che è shop all, ecco qua, e noi scriviamo compra tutto, che è esattamente la traduzione, link del pulsante, potete scegliere dove volete andare, possiamo utilizzare stile contorno, vedete se volete solo il contorno o il bottone pieno, e di base potete modificare ogni singola cosa. Schema colori, vi ricordate che avevamo diversi schemi colori, potevate anche crearne di nuovi e potete gestirvi come meglio credete. Quindi la bellezza degli schemi colori è che vengono applicati poi automaticamente. Layout sul dispositivo mobile, adesso vi faccio vedere se vado qua a chiudere, facciamo così. Qua a sinistra posso metterla al centro o a destra, ok? Quindi mi raccomando di verificare sempre poi come il vostro sito risulta sia desktop che mobile. Tablet non c'è ma non è un problema, perché tanto da tablet sono molti meno, e vi interessa verificare il vostro sito da desktop oppure da mobile. E quindi qua abbiamo modificato semplicemente la prima slide. Andiamo ad aggiungere un'altra slide. Aggiungi scorrimento, vedete abbiamo la prima slide, abbiamo image slide, eccola qua. Automaticamente ci ha messo un'immagine di default, ma va assolutamente bene. Vedete che abbiamo due su due e ha cominciato a partire automaticamente. Qua possiamo tornare indietro, vedete possiamo stopparlo nel caso, ma la seconda slide potete andare a modificare. Quindi potreste, siamo in presentazione scusatemi, andiamo su immagine slide. Possiamo cambiare, quindi possiamo dire seconda slide. E da qua potete fare tutto quello che volete, modificare la grandezza del titolo, modificare il sottotitolo, vedete che è questo qua sotto, modificare il bottone e quant'altro. Le stesse cose che abbiamo visto per quella prima la possiamo fare anche per la seconda. Andiamo con una terza e poi ci fermiamo qua per quanto riguarda le slide. Facciamo terza slide. Se io salvo, andiamo a vedere il nostro sito ed eccoci qua. Sono comparse una di tre, quindi abbiamo tre slide. Vedete che se vado avanti abbiamo le nostre slide. Prima slide, seconda slide, terza slide. Quanto è stato facile creare una cosa del genere? Ora, se abbiamo fatto la prima slide, possiamo occuparci della seconda parte, che è collezioni in evidenza oppure feature products. Andiamo qua sotto, vedete qua presentazione, la chiudiamo perché sennò non si capisce, quindi la chiudiamo. Abbiamo collezioni in evidenza, che è quella che ci interessa. E da qua possiamo modificare le dimensioni del titolo. Grande, meno grande, piccola. Potete aggiungere una descrizione. Ciao, sono una descrizione. Questo è il paragrafo esattamente sotto il titolo. Potete inserire la collezione che volete, quindi da qua potete cambiare la collezione, ma la lasciamo. Massimo di prodotti da mostrare, potete mostrarne solo due, eventualmente. Potete mostrarne molti di più, chiaramente andranno poi sotto o a scorrimento. Rendi prodotti a larghezza intera, ma in questo caso non cambia niente. Abilita visualizza tutto. Se la collezione ha più prodotti di quelli mostrati, quindi se dovesse andare a fare due, vedete, visualizza tutto. Io ho solo quattro elementi, se faccio cinque elementi, vedete che non mi dà visualizza tutto, ma se faccio due elementi mi dà visualizza tutto perché c'è più di così. Questo è molto bello perché automaticamente dite, ah, se aggiungo più prodotti mi fai visualizza tutto. Pulsante in tinta unita, link, contorno pulsante, eccetera, eccetera. Noi facciamo pulsante tinta unita, anche qua modificare schema colori, vedete? Molto bello così, mi piace, ma in realtà torniamo allo schema iniziale. E quindi anche questo l'abbiamo visto. Volete rimuovere una sezione? La rimuovete da qua. Torniamo indietro, la potete rimuovere da qua, potete nascondere. Andiamo avanti, possiamo fare aggiungi sezione. Quindi cosa potremmo voler aggiungere? L'avevamo già intravisto. Possiamo avere un collage, multicolonna, ad esempio, quante cose facciamo, riga multipla. Quindi qua sotto, vedete, riga multipla, abbiamo del testo, altro testo, il pulsante, eccetera, eccetera, un'immagine a cambiare. Qua sotto, vedete, passa alla posizione successiva, quindi passiamo sotto. Per ognuno possiamo eventualmente nasconderlo, duplicarlo, rimuoverlo. Niente, niente di che. Tutto quello che vedete, caption è questo qua, la didascalia qua in alto, avete row, che è il titolo, avete il testo, che è questa parte qua, avete il bottone. E direi niente di che, con tanto di link al pulsante, ma questo è abbastanza scontato, e poi l'immagine, se volete metterla. Questa qua, chiaramente, è quella di default. Quindi, se andiamo avanti, potete capire come potete aggiungere infinite sezioni, e le potete modificare veramente in modo semplice. Vorrei solo farvi vedere l'header e il footer velocemente, perché? Perché sono per tutte le immagini. Come potete vedere, da qua abbiamo la barra degli annunci, c'è scritto benvenuto al nostro store, potremmo aggiungere un link, se premo, sulla barra. Poi abbiamo il menu, che non possiamo modificare, perché? Perché il menu si modifica dalla navigazione, dal back-end. Per esempio, nell'header, possiamo dire dove vogliamo posizionare, vedete, mondo sapone prima era al centro, adesso l'ho messo sulla sinistra. Possiamo cambiare il menu che fa riferimento, possiamo avere il menu a discesa, il mega menu, ad esempio. Vedete, così è mega menu, altrimenti abbiamo il menu a discesa. Insomma, potete scegliere quello che volete, dovete solo capire che cos'è. Magari alcune cose non le avete mai viste, non sapete che sono mega menu, eccetera. Schema colori, di nuovo, eventuali altre impostazioni. Poi sotto abbiamo per la spaziatura, ancora CSS personalizzato, impostazioni tema. Torniamo indietro, abbiamo il footer, dove abbiamo l'iscrizione alla newsletter, che è questa qua. Se io premo, vedete, possiamo modificare questo testo, questo testo, premiamo di qua. Sul modulo non abbiamo alcun tipo di modifica al momento. Abbiamo poi il footer, vedete qua sul footer, altre opzioni, tipo abilità segui su shop. Questo qua, vedete che Shopify di default cerca sempre di spingerci su shop. Mostriamo icone dei social, se ce l'abbiamo. Se lettore paese, possiamo abilitarlo o toglierlo, ecco qua. Abilità se lettore lingua, possiamo toglierlo. Mostri a icone di pagamento, ecco questo è sempre ben apprezzato. Spaziatura anche qua. Codice personalizzato CSS e via discorrendo. La cosa la potete applicare su ogni altra pagina. Contact, ad esempio, ecco andiamo a vedere. Su Contact potete andare a modificare effettivamente la pagina. Oppure abbiamo altre pagine tipo carrello. Quindi qua vedete che abbiamo, vediamo indietro, nella sezione al centro abbiamo gli articoli che vengono mostrati. Potremmo aggiungere spaziatura superiore e inferiore, vedete. E poi abbiamo la possibilità di modificare il prezzo del sub totale e quant'altro. Possiamo aggiungere una sezione, eccetera, eccetera, eccetera. Avete il controllo veramente su tutto il contenuto. La stessa cosa possiamo modificare anche i template dei modelli. Ad esempio prodotti, vedete che non ci sono i nostri prodotti. Non c'è la git card natalizia, non c'è il disegnino digitale, eccetera. C'è solo prodotto predefinito, che era la pagina che avevamo dove? Avevamo nel back end quando abbiamo creato il prodotto. Tutti i nostri prodotti più o meno sono così, vi ricordate? Avevano qua in alto il titolo, il prezzo, eventuali varianti se ci sono, quantità nel carrello. Aggiungi l'offerta, descrizione e share. Voi potete tranquillamente dire, io lo share, non lo voglio. E non volendo lo share, tranquillamente, scompare. Potete mettere il buy button sopra la quantità, se volete, non lo faccio. Ma possiamo mettere la descrizione, magari, fatemela tirare su, la descrizione sotto il titolo. Sarebbe bello, vedete, gift card, descrizione. Quindi se io salvo ed esco da qua e vado sul mio sito, visualizza il tuo negozio, vado su catalogo, libro, e vedete che la descrizione è stata portata su. Ok? Questa cosa qua prima era sotto e c'era lo share. Quindi, come avevo già detto, la pagina di ogni prodotto è sempre la stessa. Ed è, se torniamo indietro, prodotto predefinito. Però, come vedete, possiamo creare un nuovo modello. Così come possiamo creare un modello per cosa? Per il blog. Possiamo creare un modello per le collezioni. Possiamo creare modello per altre pagine che sono predefinite. Per gli articoli, eccetera. Come si creano i modelli? Lo vediamo nel prossimo video. Quello che dovreste aver capito da questo video, anche se non abbiamo fatto niente di effettivamente finale, ma quello lo vedremo nei tutorial lunghi, qua avete capito cosa potete modificare, perché lo potete modificare, dove si trova, eccetera. Ok? Quindi questo è quanto. Prossimo video vediamo come creare un nuovo modello di pagina. Ci vediamo tra poco.